ed eccoci di nuovo qui bentornati sempre con un mondo in milano seconda parte di questa puntata oggi come abbiamo anticipato prima e come avete visto nella prima parte parliamo di assicurazioni ma è una cosa davvero importante e fondamentale per vivere sereni tutti i giorni oggi in questa seconda parte vogliamo parlare poi di un'assicurazione a me sembra particolare in realtà il mio ospite dice non pensare ce ne tante sono qui con riccardo clingueri di david assicurazioni buongiorno a lei mi ha detto parliamo di assicurazioni nautiche a milano quante barche sono sul naviglio ma di barche sul naviglio ce ne sono poche ma di bilanesi che vanno al mare o sui laghi ce ne sono parecchi e non necessariamente sono milionari diciamo sfatiamo scombriamo il campo scombriamo il campo da errori allora esistono persone che amano andare in barca vela o motore quello che sia e che non sono necessariamente i benestanti che si immaginano dalle dalle copertine di di cattile otto calchi e noi come broker abbiamo cominciato poco più di due anni fa a fare occhiolino a questo settore anche perché ci siamo resi conto che ci sono delle esigenze importanti non solo quelle legate parlava prima il mio titolare e collega michele a rigazzi ma ci sono delle realtà di necessità al di là dell'obbligo quindi non si parla solo di re c che sono le polizze cosiddette corpi nel gergo assicurese ovvero la casco delle auto riportata alla logica dell'imbarcazione colpi si chiamano i corpi imbarcazioni allora abbiamo cominciato a vedere sul mercato compagnie che potessero darci una mano ricordo di nuovo davidi assicurazioni è un broker volevamo crearci una nicchia interessante cioè fare in modo che si ricordasse qualcuno di noi anche in un settore che può sembrare un po strano per una realtà milanese ma in realtà e ripeto in realtà c'è molto interesse abbiamo oggi un numero piuttosto importante di clienti che si sono affacciati alla nostra offerta attraverso il sito abbiamo sito www davidassicurazioni.it dove tra l'altro si può addirittura richiedere per la nautica un preventivo in automatico e quindi si vedono tutte le informazioni che servono per il nostro chiamiamolo mini armatore o armatore in erba o armatore non esagerato quali sono le richieste cosa cosa vuole di più un armatore privato del genere se appunto del nostro mini armatore ma diciamo che la prima cosa la parola sicurezza sembra un po abusata ma in realtà nel settore nautico le pollizze base corpi base non hanno tutto si parla di all risk ma in realtà le garanzie più interessanti sono spesso le cosiddette garanzie accessori pensiamo agli atti vandalici pensiamo a delle rade se si pensa al mare no dei golfi rade non protette e eccetera cioè situazioni in cui comunque un'imbarcazione può subire un danno nonostante siano chiamate all risk in realtà c'è così tanta poi la lista diciamo delle esclusioni è così diciamo che più nel gergo noi parliamo di patti speciali cioè da includere alle pollizze base quindi già le pollizze base nostre per la parte appunto danni alla propria imbarcazione sono estese pensiamo non so alle eliche timoni se si tocca dentro un tronco oppure se si tocca ahimè una secca cose che possono capitare purtroppo allora qui interviene la pollizza che ha un certo tipo di estensioni assieme a specialisti che hanno lavorato con noi non abbiamo questa presunzione ci siamo affidati a professionisti veramente molto bravi e con tanti anni di esperienza si è riusciti a trovare una chimia interessante su questo tema e questo ci ha portato ad avere realmente la possibilità di coprire praticamente quasi tutto facciamo un esempio quali sono le caratteristiche possibili appunto su un tipo di poezza del genere ma non so pensiamo all'incendio allora un incendio che sia un rischio un incendio totale un incendio parziale l'assicurazione rinfonde il danno se sinistro è provocato da intemperie grossi temporali addirittura pensiamo alle alluvioni che tanti anni fa in Liguria hanno creato grossi problemi proprio perché i fiumi arrivavano e si portavano via anche le barche no? ecco questi tipi di dico questi tipi perché non parliamo di un'unica compagnia ma parliamo di più compagnie specializzate a questo punto ci hanno dato la possibilità di integrare sulla polizza già ampia garanzie ancora più importanti e soprattutto a prezzi molto competitivi abbiamo avuto questa fortuna partendo quasi quasi da zero ma trovando dei riferimenti importanti e piano piano il passaparola è servito ahimè sono serviti anche i sinistri perché quando un sinistro viene pagato allora l'eco che c'è sicuramente è positiva e questo ci ha portato malgrado qualche pianisteo da parte delle compagnie con cui lavoriamo a dei risultati interessanti per il futuro insomma ecco ricordiamo questo particolare appunto il broker ha a che fare non con una compagnia ma con più compagnie giusto? esatto è così voi fate una ricerca quindi come funziona? sì noi facciamo una ricerca allora diciamo che intanto ci siamo affidati già a Novero citato precedentemente dal mio titolare collega quindi tra le 20 e 30 compagnie siamo andati a cercare quelle compagnie che in maniera specifica lavorano sul settore e hanno quindi un know how su quel settore tale da permetterci un maggiore fiato nei confronti dei nostri clienti potenziali e non e questo è stato il riscontro che abbiamo ottenuto quindi situazioni dove a tutti gli effetti l'assicurato nel caso di problemi è stato soddisfatto ma l'assicurato che per fortuna anche nostra non solo sua non ha creato dei problemi sa di poter disporre di una serie di strumenti che veramente gli danno uno scudo una protezione completa ecco se dovessimo dire invece nostra chi ci segue da casa perché rivolgersi a un broker in questo caso di Davide Assicurazioni su questo tema? beh si diceva anche un po' prima ovvero perché noi siamo indipendenti e quindi questa indipendenza ci permette di andare a vedere dove alcuni tipi di servizio assicurativo possono essere adeguati a quel cliente specifico senza necessariamente dover vendere quello che è il prodotto che abbiamo in casa quindi prima lo andiamo a scegliere ne andiamo a parlare al cliente abbiamo a sottoporre almeno due ipotesi non una sola e qui il cliente poi in base a quello che gli diciamo al prezzo al tipo di estensioni e alle condizioni è in grado di darci una sua risposta ecco non solo per la nautica su cui sicuramente avete a che fare anche con società di charting e cose del genere ma anche proprio come Davide Assicurazioni avete a che fare anche con aziende che tipo di polizze e come mai con le aziende avete a che fare? intanto diciamo ribadiamo che siamo partner di conflavoro PMI questa confederazione che raccoglie sia imprenditori che altre realtà e che ha dato a noi fiducia quindi noi ci sentiamo in qualche modo un macchio di garanzia in più che ci permette poi di proporci sia al pubblico in generale, aziende soprattutto ma anche privati sia agli stessi associati di tale confederazione sì è così, molte aziende al di là del discorso nautico che si diceva prima si rivolgono a noi per cercare un panel assicurativo che risolva i loro problemi può sembrare una frase fatta ma in realtà poi nella realtà il discorso di consulenza di cui si parlava poco fa viene proprio ripreso in questi termini quindi c'è un dialogo soprattutto all'inizio una fase di anamnesi se vogliamo usare un termine medico ma questa è fondamentale può essere per un piccolo problema, può essere per un grosso progetto però questo discorso è la prima cosa che viene implementata per portare poi come risultato una buona consulenza o perlomeno abbiamo questa presunzione perfetto, io davvero la ringrazio tanto per le sue... grazie a voi insomma questi consigli sono veramente preziosi a parte il discorso nautico comunque abbiamo capito che rivolgersi a un broker assicurativo può veramente essere utile e risolverci quei problemi che dopo anzi sono guai possono diventare dopo quindi insomma basta ad esempio nel vostro caso un sito internet basta contattarvi e poi su lì possiamo avere tutte le informazioni che vogliamo giusto? esattamente davidassicurazioni molto semplice la url è www.davidassicurazioni.it se vogliamo fare proprio uno spot mi ha chiesto glielo dico glielo ho chiesto io glielo ho chiesto io glielo ho chiesto io colpa mia va bene io davvero la ringrazio tantissimo grazie a voi speriamo di rivedermi ancora qui perché il tema è interessante insomma ci saranno tante tante cose da dire le assicurazioni di Poliz insomma un mondo davvero che ci piacerebbe scoprire insieme a voi grazie mille di essere qui con noi grazie anche a voi che ci avete seguito e l'appuntamento come sempre con le nostre dirette del pomeriggio alle 17.30 con i telegiornali fino alle 20 in diretta io personalmente vi do appuntamento alla nuova puntata domani con Good Morning Milano grazie mille e arrivederci a tutti 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 Grazie a tutti.